benvenuti a questa nuova puntata di Mappamundi e oggi parliamo di Kosovo di Kosovo e le tensioni con la Serbia dei Balcani e vedete qui vicino a me Alessandro Politi ciao Alessandro buonasera a tutti ciao allora Alessandro oltre a essere una vecchia firma di Limes ma vecchia solo diciamo per la quantità di esperienza non ovviamente con riferimenti all'anagrafe anche direttore e passa anche direttore del Nato Defense College Foundation ed è in particolare stato per più di un anno in Kosovo proprio insomma del di cosa parliamo e con quale incarico dicelo tu Alessandro sono stato il chief political advisor quello che in gergo si chiama il Polad del comandante quindi anzi della K4 della missione Nato insomma in Kosovo perché ricordiamo nasce questo paese nasce da appunto una guerra dalla guerra del Kosovo dall'intervento della Nato e della resa di Milosevic ma sugli aspetti storici poi andrei ci torneremo ovviamente partiamo dall'attualità perché le tensioni nel Kosovo che sono state latenti in tutti questi anni sono si sono riaccese negli ultimi mesi ecco allora eh abbiamo avuto varie questioni secondo te quali sono le più rilevanti la questione delle targhe delle patenti dei documenti o queste ultime gli attacchi contro poliziotti serbi dimissioni di poliziotti serbi insomma cominci raccontaci un po' le ultime tensioni che ci sono state poi cercheremo di capire ovviamente il perché se uno dovesse guardare all'ultimo pasticcio che succede uno pensa no il Kosovo è un posto pericolosissimo in realtà il Kosovo sperimenta ciclicamente delle tensioni dovute a questioni molto concrete non sono come dire dei capricci sono delle tensioni di uno stallo politico e anche sociale che dura con decrescente intensità dal 99 nel 99 la che i for dove peraltro c'erano anche i russi metà dello stelo che for è scritto in cirillico eh erano 55 mila soldati oggi siamo intorno ai 4 mila grosso modo quindi l'esigenza di avere tanti soldati in questo posto è obiettivamente scesa quali sono i grandi problemi come dire che che decidono se ancora ridurre il contingente o no molto pochi ma alcuni un po spinosi uno di questi è fare in modo che il monastero di decani che è un monastero serbo finalmente possa essere passato interamente sotto la protezione della polizia kosovara come tutti gli altri monumenti serbi decani e l'ultima ma perché c'è un sindaco che spalleggiato ovviamente dall'inevitabile capataz politico a pristina ramo sharadinei continua a rivendicare delle terre del monastero che non gli appartengono anzi la corte costituzionale la corte suprema kosovara ha detto che no ha ragione il monastero evidentemente come dire non ci sono le situazioni di debolezza dello stato di diritto cosa che noi italiani capiamo benissimo una seconda di di chi è coinvolto a certe cose si fanno o non si fanno no restano lettera morte allora ti interrompo un attimo giusto per far vedere di cosa stiamo parlando ecco questa è una carta classica di limes dove vediamo appunto il costo etico e vediamo appunto il costo è la grande maggioranza sabbanese una provincia serba che appunto si ribella e che grazie alla guerra del costo poi si rende di fatto prima di fatto poi anche formalmente indipendente e vedete in rosso però le zone che rimangono quindi in costo ma abitate da serbi che quindi si trovano minoranza nel nuovo stato e le questioni sono due nel nord la mitrovizza è tutta la regione del nord e poi vedete i singoli puntini rossi sono soprattutto i monasteri monasteri che sono serbottodossi e molto importanti per i serbi che sono appunto collocati un po in tutto in tutto il costo quindi dicevi rimane questa questione questo primo che direttamente sotto la protezione dei soldati italiani quindi i soldati italiani fanno parte da k4 da sempre proteggono questo monastero sperando che finalmente come dire il sindaco la smetta il sindaco il suo successore poi c'è invece una questione molto più importante che portare la costo lo security force nel nord del corso quindi dove nei quattro comuni a maggioranza serba e questo naturalmente eccoli qua proprio questa zona rossa che confina pienamente con la serbia ora questi questi portare la forza di sicurezza del coso che non è un esercito regolare ma è solo una forza di sicurezza qualcosa quindi di un po più robusto della polizia ma non di molto è naturalmente un problema di sovranità delle autorità delle autorità di pristina allora vari comandanti hanno cercato come dire con una certa delicatezza di fare in modo che questa forza si potesse muovere anche nel nord ma le uniche le uniche cose permesse sono le pattuglie congiunte e poi c'è come dire ricordiamo per chi diciamo non è magari abituato a trattare questa zona conosce tanto questa zona diciamo che appunto poi la serbia non ha mai riconosciuto l'indipendenza del costo dichiarata formalmente nel 2008 se non sbaglio e in queste regioni di fatto i serbi come dire hanno continuato a vivere come se fossero all'interno della serbia quindi avevano le targhe serbie documenti serbi quindi tutti i tentativi in questi mesi dall'elettorità di pristina del kosovo di imporre le targhe appunto costovare o documenti costovari hanno avuto no la reazione la frizione la resistenza da parte della popolazione serba è corretto diciamo diciamo che non è esattamente così cioè ci sono stati dei progressi enormi in realtà prima era proprio già semplicemente come dire controllare i valichi di frontiera era un problema adesso sì c'è stato di nuovo una crisi ma altrimenti no i vali di frontiera adesso sono controllati dalla polizia del kosovo e spesso però la polizia del kosovo ha dei poliziotti serbi che operano sotto queste insegne c'è stato c'è stato tutta una serie di progressi tecnici che hanno naturalmente valenza politica in questi anni infatti il servizio diciamo così le istituzioni giudiziarie sono state fuse le istituzioni di insegnamento sono stati fusi solo che adesso con questa crisi da belgrado è arrivato l'ordine di ritirarsi da queste istituzioni che prima erano kossovare senza aggettivi poi de facto è chiaro che il nord del kosovo ha comunque o come dire una sua un suo modo di vivere che però è anche facilitato dal fatto che i serbi continuano a pagare le pensioni e gli stipendi dei kossovari del nord sono grossomodo 400 milioni di dollari e noi italiani chiaramente diciamo come dire alle parti in causa sentite è il momento di fare come in alto adige e la gente capisce con la testa e poi gli istinti politici li portano da un'altra parte quindi c'è una serie di condizioni per cui se vengono raggiunte la che for continua a diminuire e quindi molti casi è diminuita poi c'è il dialogo come dire di normalizzazione iniziato dalla baronessa lady ashton tra belgrado e pristina questo è un dialogo che naturalmente viene spinto dall'unione europea ma è un dialogo che molto ostaggio così delle condizioni politiche dei due contendenti il kosovo per esempio non è mai stato riconosciuto internazionalmente è stato riconosciuto da una serie di paesi tra cui anche ovviamente quelli della nato ma non tutti quattro no cinque nell'unione europea per motivi prettamente interni cioè se io ho un problema di minoranza di frontiera non vado a riconoscere il kosovo creandovi un problema a casa per esempio cipro no nell'unione europea la grecia che adesso forse potrebbe arrivare invece a cambiare idea ma dire ci vuole tempo perché ha risolto la questione con la macedonia questo è molto importante la famosa macedonia del nord altri paesi 193 membri dell'onu che hanno riconosciuto il costo per dare un'idea ma non basta perché ci vogliono i due terzi dell'assemblea generale ovviamente i serbi fanno lobby il contrario quindi se possono cercano di far disconoscere il kosovo da paesi che hanno già riconosciuto e a volte si ha l'impressione che i vari ministri degli esteri kosovari non spingano abbastanza in questa direzione un po perché hanno anche dei governi non sempre stabili ma forse ci sono altre ragioni a volte lo status quo conviene conviene a entrambi perché se si comincia come dire a essere seri nel nell'entrare in europa ebbe bisogna abbandonare tutta una serie di renditi di posizione politiche e non solo politiche quindi quando quando i russi non si lamentano che le loro repubblichette non sono riconosciute e invece il kosovo no non è vero nemmeno il kosovo quindi c'è c'è un problema evidentemente di consenso internazionale per riconoscere determinate realtà il che non significa che non sia sensato arrivati ad un accordo con la Serbia riconoscere no significa che il problema è evidentemente aperto ma arriviamo alla domanda da un milione di dollari visto che hai citato la Russia te la faccio subito perché insomma sui media leggiamo di questa crescente tensione tra kossovo e Serbia ma come dire il retropensiero è che sia la guerra in Ucraina abbia avuto diciamo effetto su questa crisi e che in particolare la Russia stia chiedendo alla Serbia di soffiare sul fuoco per creare appunto un diversivo non so che dimmelo tu che sei diciamo di questo io sarei lieto di vedere no quali sono i documenti classificati prodotti da un po' di servizi incluso il nostro che non è assente dal kosovo evidentemente in realtà da quando i i russi si sono ritirati dalla K4 giocano di rimessa nei Balcani a loro basta poco basta come dire qualche cosa e le cancellerie europee ovviamente si mettono in movimento si preoccupano ma in realtà la dinamica di questo incidente come praticamente di tutti è internissima le istituzioni del kosovo vogliono chiudere la questione delle targhe come riconoscimento della loro sovranità è evidente che le autorità di Belgrado manco questo vogliono riconoscere cioè è una battaglia come dire di retroguardia ma molto tenace fanno come dire il loro mestiere e chiaramente questo innalza delle tensioni che certamente non sono non aiutate da Belgrado solo aiutate come Belgrado ha imposto in questi anni a tutte e dieci i comuni serbofoni un unico partito la lista serba chiunque era contrario veniva o emarginato o anche ammazzato come è capitato proprio durante il mio periodo di servizio poco dopo Oliver Ivanovic che ho conosciuto personalmente una persona molto in gamba ma che stranamente perdeva tanto le elezioni comunali quanto le elezioni diciamo parlamentari quindi è chiaro che la lista serbsca è come dire una cappa sulla libera espressione dei serbi diciamo in terra controllata da pristina ma questa è la realtà quindi il legame diretto chi decide cosa devono fare i kosovari serbofoni è chiaramente Vucic poi la Russia può fare tutto il fuoco di accompagnamento che vuole soprattutto come dire elettronico diplomatico politico però anche la Russia non è questo grande amico della Serbia cioè un amico che costa caro gli aerei sì sono stati forniti ma condizioni di favore ma si poteva forse fare di meglio i serbi da sempre diciamo dall'ottocento sanno che la grande amicizia russa è un'amicizia a doppio taglio è infatti contito che non era serbo ma che certo era sostenuto come dire dal dalla struttura militare tecnocratica serba le distanze dall'unione sovietica le ha mantenute e come proprio per ovvi motivi nazionali quindi Vucic fa degli equilibrismi perché pensa gli servano ancora e forse sì perché il suo mantenimento del potere gli servono ma no non è che si faccia grandi illusioni su tutti nessuno se le fa ma già da un pezzo diciamo quindi il diversivo no non c'entra niente anzi la guerra in ucraina paradossalmente oserei quasi dire per fortuna per questo per questi e per altri popoli ha svegliato l'europa da una sorta di condiscendenza passiva sì sì vabbè poi vedremo se farli entrare invece poi si è capito che non non si può tenere sulla corda milioni di persone semplicemente dicendo non siete abbastanza adatti non siete abbastanza bravi e anche vero questo cioè ognuno deve fare i suoi compiti a casa per entrare in europa però è chiaro che c'è anche un veto politico del no non ci va non ci vogliamo complicare la vita ancora questi beh allora quando si dice l'ucraina domani in europa nessuno ha alzato la voce nei balcani ma dietro le quinte altro che c'è la gente ha detto ma come noi stiamo qui da vent'anni e voi fate adesso come dire todos caballeros gli altri scusate ma no e quindi adesso questo c'è almeno un impulso che speriamo come dire continui perché a volte le cose hanno un picco e poi di nuovo riscivolano felicemente nell'obbligo generale può essere la serbia che insomma vuole risvegliare un po' anche l'attenzione su queste questioni sulla sua condizione e ricordiamoci anche la questione no della repubblica serbsca all'interno della bosnia erzegovina quindi diciamo eh sono le due grandi questioni no ancora aperte nei balcani che hanno la serbia appunto come protagonista la serbia è una protagonista fino a quando le elite locali glielo permettono e qui ripeto noi italiani facciamo forse troppo poco non da un punto di vista pratico politico però da un punto di vista proprio di 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 narrativa ecco dovremmo liberarci dalle semplificazioni di molti nostri amici alleati dire la strada con una minoranza all'ofono è quella dell'alto adige non perché l'alto adige sia haidi ma certamente le condizioni come dire da molto tempo dagli anni sessanta sono decisamente migliori nemmeno gli inglesi sono riusciti a fare una buona copia in irlanda del nord quindi abbiamo come dire dei modelli che finora funzionano nulla sarà eterno però allora questo significa che le capitali di questi paesi devono farsi carico di queste popolazioni punto facendosi carico poi ci si muove in un'altra direzione è chiaro che una delle cose che per esempio questo governo no a pristina non vuole non vuole sentire manco vedere manco in cartolina è l'associazione dei comuni serbi o la comunità dei comuni serbi e insomma uno spiega che è un passo normale questo proprio per risolvere la questione e l'obiezione che mi sono sentita dire personalmente da curti è stata guardi che la guerra in bosnia è nata proprio da questo tipo di associazioni di comuni non vogliamo offrire il destro a delle manovre a belgrado risposto guardi che c'è la key for ai tempi della guerra di bosnia no capisco i timori ma ci vuole un altro modo per interpretare lo stato nazionale cosa che noi italiani abbiamo scoperto da molto tempo e altri ancora devono interiorizzare questo è devo dire un modo molto concreto di porre la questione allora adesso c'è di nuovo un'iniziativa franco tedesca che vuole cercare di nuovo no di dare un ulteriore impulso però ecco uno non si può illudere che semplicemente promettendo l'integrazione tutto si risolva ci vuole senz'altro un cambio di generazione anche quindi secondo te l'italia che ricordiamo ha oltre diciamo come di rapportare l'esempio dell'alto agile che ricordo che però comunque un esempio costoso no perché insomma è una soluzione che è costata parecchio e quindi insomma eh in questa fase bisognerà anche capire quanto i paesi europei vogliano non spendere si prospetta anche nelle spese di ricostruzione in Ucraina eh di livello insomma incredibile ehm quindi a parte portare l'esempio dell'alto agile l'Italia proprio insomma tu ne sei l'esempio anche diretto eh è presente con i propri militari lì nel Kosovo quindi che ruolo può avere l'Italia non come membro dell'Unione Europea ma proprio come come Italia? Il ruolo che desidera ritagliarsi concretamente cioè noi investiamo e poi però a volte non passiamo all'incasso ecco questo è il punto essenziale allora è vero che l'Alto Adige ha un costo ma il costo del Nello Alto Adige è chiarissimo ecco quindi questa è una cosa che bisogna capire è chiaro che il Kosovo non può avere i mezzi che ha l'Italia ma sicuramente questi mezzi non sono proprio astronomici eh non voglio dire noi parliamo ogni volta di cifre dell'ordine miliardi di euro qui ci vuole molto meno poi è chiaro che se c'è un volano economico tutti stanno meglio tutti si dimenticano come dire di manipolazioni nazionalistiche però diciamo l'Italia ha già una sua presenza che non è soltanto politica che non è soltanto diplomatica che non è soltanto militare ma anche economica e la deve rafforzare però rafforzare significa che poi ogni governo non lascia cadere le cose ma riprende da dove il governo precedente ha agito che è quello che noi facciamo con la finanziaria non è che non dobbiamo inventare nulla però bisogna fare questo allora a tirana se il governo attuale ha dichiarato una serie di cose poi hanno bisogno che che ci sia un seguito perché la dichiarazione lasciata così noi abbiamo concorrenti tra gli alleati nonché i potenziali avversari non ci pensano due volte a sfruttare questa opportunità comunque un ruolo di forza non di dissuasione come qualcuno dice è un ruolo di forza di prevenzione che i for funziona soprattutto quando previene o disinnesca velocemente le crisi che naturalmente non può fare tutto da sola perché un concerto di di quello che viene chiamato in modo un po roboante la comunità internazionale però però questo ruolo c'è e l'italia molte volte credo che sia il paese che abbia dato più comandante alla che i for e non a caso non è soltanto una questione di emigrazione i comandanti italiani hanno delle capacità politiche o meglio di sensibilità politica che no altri non hanno gli svizzeri possono averla ma perché vengono da un paese cantonalizzato quindi sanno qual è il problema della gestione i greci sono bravi ma come dire hanno più un pancham filo servono sono correttissimi lavorano benissimo ma è chiaro che c'è come dire così una sensibilità diversa questo senza i turchi ne hanno altre allora guarda hai citato due due questioni che andiamo diciamo che dobbiamo trattare allora una è l'Albania e l'altra appunto la Turchia cominciare dall'Albania e volevo mostrare questa appunto carta dell'Albania etnica perché appunto gli albanesi sono divisi tra Albania Kosovo e una parte anche in Macedonia nel nord ora qual è il ruolo dell'Albania cosa sta facendo in queste in questa situazione in questa tensione tra Kosovo e Serbia diciamo che c'è una solidarietà politica e poi di tanto in tanto viene rispolverata quest'idea di unione della grande Albania e in realtà da un punto di vista sociale questo tipo di unione è un po' complicata in Albania c'è come dire un'idea chiamiamola un atteggiamento per cui gli albanesi del sud sono i veri albanesi quelli colti superi quelli superiori man mano che si va a nord beh lo sguardo è veramente dall'alto in basso se posso dire e se si va sul Kosovo sì sì dovrebbero parlare albanesi ma lo sono davvero queste cose non si dicono mai politicamente per ovvi motivi ma diciamo poi se si conoscono un po' le due popolazioni queste cose si si sentono e come ecco diciamo benvenuti al nord benvenuti al sud per metterla in modo così più lieve all'italiana però ci sono anche ragioni storiche perché ovviamente il Kosovo faceva parte della Jugoslavia e ha avuto un certo destino l'Albania invece è rimasta chiusa proprio con il Berogia rispetto insomma all'esterno per più anni e poi ricordo anche c'è una forte migrazione del Kosovo verso la Svizzera quindi il Kosovo ha una forte e forti collegamenti con la Svizzera mentre l'Albania come immigrazione ce l'ha avuto il più verso l'Italia e tra parentesi per chi ha seguito i mondiali di calcio sa insomma nella Nazionale Svizzera ci sono diversi giocatori almeno due uno forse più famose sciagiri di origine kosovare questo tra l'altro ha creato pure tensioni nella partita tra Serbia e Kosovo chiusa la parentesi insomma aggiungo che anche come dire una certa hoxa era sempre albanofono perché era una hoja addirittura nipote del dittatore quindi vorrei solo dire che adesso la presidenza ceca vorrebbe fare in modo che i kosovari possano viaggiare senza visti nello spazio Schengen e naturalmente ci sono tutte le perplessità del caso oddio gli immigrati oddio i mafiosi viaggiano comunque senza problemi non mai visto un mafioso che non abbia due o tre passaporti che abbia solido appoggio politico non c'è problema gli immigrati ma se noi non permettiamo questo paese io ho visto villaggi col 60 per cento di disoccupati villaggi del sud che non avevano l'elettricità di notte se noi non permettiamo questa gente di emigrare l'economia kosovara sarà ancora più insostenibile di quello che è adesso quindi è un paese ma come tutti quanti gli altri sei che si regge su un'economia estremamente fragile per essere diplomatici faccio notare che anche la croazia che in unione europea non è che abbia questa situazione economica brillante quando prima diceva che era la più ricca ecco è anche come di una un interessante come dire esperienza pratica per tutti questi paesi che pensano che la strada della secessione sia la migliore io come dire rifletterei un po sui casi concreti perché a volte no la secessione non è stato come di il ben godi più dipinto che non vissuto questo noi italiani abbiamo affrontato tre secessioni o tre terroristi secessioniste terrorismi secessionisti o movimenti secessioni abbiamo fatto in sicilia l'abbiamo fatto in alto radice e poi con la mitica padania però noi siamo più bravi degli altri siamo riusciti a volte a prezzo di compromessi non brillanti a chiudere la partita anche in modo molto veloce ecco questo questa è una cosa che noi sappiamo fare e quindi poi però dovremmo come dire essere più espliciti nel dirlo a cominciare dai vari think tank insomma sono stupito che quando si parla del corso risparmi di holland non sono di hong kong tempi non sospetti incredibile noi italiani possiamo fare molto quindi sono come dire molto molto attento a quello che è stato detto a tirana e spero che i nostri amici nei balcani non pensino che sia la solita come dire parata europea che poi non va da nessuna parte questo 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 sì che è importante allora dicevamo la turchia a proposito anche di concorrenti la turchia sappiamo è molto attiva nei balcani e non solo ne abbiamo parlato in altre puntate che trovate sul canale insomma tutto quello che sta facendo la turchia dall'ucraina diciamo al medio oriente all'africa però ecco allora sul costo come come si sta comportando io ricordo abbiamo detto in altre trasmissioni la turchia sta stabilendo dei cambi fortissimi con l'albania soprattutto quando riguarda le forze armate fornitura di armi col costo cosa sta facendo la cosa importante è come dire che il contributo turco è sempre un contributo di grande qualità nel sud del costo sono molto attenti pattugliano questo è come dire all'interno la key for cioè nella key for ci sono i greci e i turchi sicuramente non c'è un problema tra questi due contingenti estremamente professionale disciplinati attenti spesso nelle polemiche come dire così facile ci dimentichiamo che la turchia è un grande alleato della nato sì nonostante tutta una serie di giravolte politiche che noi capiamo possiamo anche come dire non condividere quindi da questo punto di vista il contributo turco è un contributo molto solido poi c'è naturalmente l'attività politico economica e l'attività politica e la restaurazione di tutti i monumenti ottomani nei balcani che è un'attività assolutamente militante non è che possiamo fare una storia dei balcani a metà ecco insomma come dire che non si restaurano i monumenti romani perché sono gli oppressori dei popoli italici però capisco che quando si si riaccendono le fiamme del più del più pericoloso nazionalismo tutto questo ahimè crea dei problemi e poi sono molto presenti economicamente cioè la rete di distribuzione elettrica è sostanzialmente nelle loro mani quindi hanno già acquisito delle posizioni come dire forti all'interno del corso e naturalmente sono pronti come dire a estendere la loro assistenza nei modi più diversi pur di consolidare la loro presa ci sono stati per esempio dei problemi molto seri con alcuni esuli espatriati turchi che erano considerati dei gulenisti e che misteriosamente sono spariti dal cosso e sono ricomparsi nel prigio di turche questo ha creato uno scandalo locale piuttosto grosso che fa capire ecco quanto l'influenza possa essere importante allora guarda io ti ringrazio perché ci hai dato appunto uno spaccato proprio di un dall'interno diciamo di tutte queste questioni per quello che riguarda tutta la cronaca delle tensioni ovviamente vi rimando insomma ai siti e media insomma eh che trovate però ti voglio fare un'ultima domanda alla insomma all'Alessandro Politi storico all'Alessandro Politi analista strategico tu ci hai raccontato ci hai detto come sono importantissime ovviamente le questioni anche legate sociali economiche che come dire coinvolgono sono coinvolte in questa crisi ma quanto pesa la storia lì cioè io no ricordo durante tutta la guerra del Kosovo no l'importanza data dei Serbi alla battaglia di Kosovo Polie no del 1300 del XIV secolo insomma conta ancora così tanto la questione storica del nazionalismo cioè al di là delle questioni appunto economiche degli accordi formali non formali lì insomma si respira ancora una voglia di rivalza storica c'è ancora un fattore umano che rende impossibile diciamo trovare un accordo definitivo tra le parti posso posso dire tre cose la prima è quello che ho toccato con mano la distanza siderale tra Belgrado e Kosovska Mitrovica dunque la metà nord della capitale del Kosovo nord chiamiamola così o bandiera nazionalista e l'altra faccia della luna cioè un belgradese diciamo che ha la stessa considerazione mutatis mutandis che un tedesco occidentale poteva avere per il suo cugino dell'est o poverino stia lì questo anche questo non viene detto ma le due città sono veramente molto diverse e sono tutte e due serbofono e sono serbe fiere di essere serbe tutto vero andiamo al monumento dove ci fu il famoso milione di persone intorno a Milošević il monumento che è controllato dalla polizia kosovara e generalmente in uno stato di abbandono abbandono piuttosto serio ci sono salito su diciamo che si potrebbe fare di meglio per tenerlo come dire pulito come il monumento che ricorda una data storica e ancora più impressionante è stato l'ultima volta che ci sono andato ci sono andato con un comandante della regione centro che era un italiano a seguire diciamo le celebrazioni sì sì il palco era pieno tutto di personalità molto nazionaliste due o tre pop e uno tutto ovviamente sotto il palco erano tutti con i berretti d'ordinanza le bandiere le icone ma erano anche 300 persone in totale gli altri erano gita scolastica tra una scampagnata e una gita scolastica quindi la storia un peso quando c'è la politica che regolarmente se ne impossesse allora la usa come un'arma di propaganda invece quello che manca come storie che invece è essenzialissimo e qui sono diciamo l'antenna una delle antenne importanti della della che i for sono i carabinieri della msu che multinational specialized unit ma in realtà è mononational specialized unit e solo fatta da carabinieri italiani oggi è la storia delle mafie quella è una storia presentissima presente di qua e di là come dire dal fiume ibar che è la frontiera simbolica tra serbofoni e albanofoni e quella è una storia dove sono usciti dei documenti nel 2014 che correlavano chiaramente grandi personalità politiche con sovare con famiglia mafiosa spesso intestate al come dirà loro famiglia e lo stesso vale per per belgrado la presenza mafiosa come dire là dove conta la dove la terra di mezzo è una cosa estremamente ovvia quindi anche in una città divisa come mitrovizza ai due mafiosi di turno lavorano perfettamente non c'è foglia che zio sfonco zio mentor si muova senza che loro lo vogliono quindi quando io sono partito mia moglie era terrorizzata all'idea che ci fossero dei jihadisti tutto guarda tranquilla i problemi sono solo due spionaggio e mafia e la mafia le mani molto più lunghe infatti sono rimasto tutto l'anno dentro l'accampamento per come dire dare un taglio alle frequentazioni così curiose che possono capitare in un paese piccolo e quello devo dire molto interessante a cui sono rimasto molto affezionato questo vuol dire non importa quale fosse la lingua degli abitanti insomma una splendida esperienza e quello infatti ricordo anche non durante la sede di sara ivo addirittura nei tempi più bui delle guerre balcaniche c'erano traffici perfettamente eh realizzati tra le diverse etnie insomma e serviva per alimentare la guerra io non insomma vorrei capire cioè non c'è una guerra dove dietro non ci sono traffici illegali questo vale per qualunque fronte di guerra sarò diplomatico ma insomma due più due lo sappiamo fare e bisogna guardare la eh sì eh sì allora grazie Alessandro grazie Alessandro grazie grazie a voi allora spero insomma che siamo riusciti a dare un quadro approfondito della situazione in Kosovo con una persona che con non solo conosce la realtà direttamente del posto ma anche diciamo tutte le basi capacità analitiche conoscenze per poi appunto analizzare e comprendere quello che poi ha visto lì di persona e allora io ti ringrazio ancora Alessandro tu a voi grazie uno degli esempi perfetti di di fare analisi analisi geopolitica insomma sui vari livelli quindi spero insomma che poi di averti ancora con noi sul canale per altre trasmissioni e alla prossima alla prossima grazie a te buona serata e buon Natale Agudi buone feste grazie